Nata il 9 gennaio 1982 a Reading, nel Berkshire, Kate Middleton è cresciuta in un ambiente relativamente normale, frequentando scuole locali prima di frequentare l'Università di St. Andrews in Scozia, dove ha incontrato il principe William. La sua relazione con William ha attirato l'attenzione dei media mondiali fin dai loro giorni universitari. Dopo diversi anni di alti e bassi, William e Kate si sono fidanzati nel 2010 e si sono sposati il 29 aprile 2011 nella fastosa cerimonia presso l'Abbazia di Westminster, a Londra. Il matrimonio è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo, e ha portato Kate al centro dell'attenzione internazionale. È di questi minuti l'ultimo clamoroso aggiornamento sulla principessa del Galles. Da Buckingham Palace, è stato diffuso il toccante comunicato che sta sconvolgendo tutti i sudditi non c'è più l'imperatore e l'imperatrice effettueranno anche una visita privata alla cappella di San Giorgio a Windsor, dove riposa la regina Elisabetta II. La mancanza del nome di Kate Middleton nel programma potrebbe essere attribuita alle sue condizioni di salute, dato che lo scorso marzo ha rivelato di essere in lotta contro la neoplasia. La sua assenza è particolarmente evidente considerando che la sua ultima apparizione pubblica risale alle festività natalizie. L'assenza di Kate Middleton da questo importante evento, reale suscita domande e riflessioni sulla sua salute e sul suo ruolo all'interno della famiglia reale britannica, alimentando ulteriori speculazioni sulla sua condizione e sul suo futuro.